Ora andiamo a parlare dell'Honor 7X e del Huawei Mate 9. Il Huawei Mate 9 è stato aggiornato alla nuova versione di Android, quindi infotelefono abbiamo la versione dell'Emotion UI 8.0 e la versione Android 8.0, mentre ovviamente l'Honor 7X non è stata aggiornata e quindi è rimasta la vecchia versione dell'Emotion UI 5.1 e la versione di Android 7.0. Nel Mate, inoltre, le patch di sicurezza sono state aggiornate al 1 dicembre 2017. Quali sono le differenze sostanziali fra queste due versioni dell'Emotion UI? Qualche differenza si ha già nelle applicazioni. In pratica, andando nella cartella di Google, per quanto riguarda il Mate, come vediamo sono state eliminate alcune applicazioni come Google+, come in particolare PlayGiochi, come PlayFilm, come non PlayGiochi, come Google+, che dovremo scaricare a parte dal Play Store. Mentre tutte quante le altre funzionalità sono rimaste le medesime, tranne nelle app più popolari, perché se non sbaglio erano presenti più applicazioni, mentre con questa nuova versione nel Mate è presente solamente Twitter, WPS Office, il Booking Hotel e Instagram e poi c'è Facebook a parte. Poi, per quanto riguarda l'app Calendario, è rimasta praticamente la stessa, quindi si ha la stessa gestione, come vediamo non è variato niente tra le due applicazioni, così come il Block Note, che è rimasto praticamente il medesimo. In strumenti abbiamo le stesse caratteristiche che erano presenti nella versione precedente e in gestione telefono c'è qualche differenza. Con la nuova versione dell'Emotion UI, come vediamo, si vengono a mancare alcune voci, come chiudi app della schermata blocco che manca con questa nuova versione, oppure il blocco delle app, mentre mancano anche le autorizzazioni. Importante è notare come in pulizia è più o meno rimasto la stessa funzionalità, come vediamo, tranne che con la vecchia versione c'era la possibilità della pulizia automatica, promemoria, pulizia dati, notifica, telefono lento che viene a mancare con la nuova versione, pulizia, memoria, lista bianca che manca in questo caso. C'è solamente la funzione della pulizia avanzata, inoltre è possibile con la vecchia versione gestire anche la memoria da qui. In dati mobili le due versioni si sono uniformate, perché nella versione precedente di Android ci ricordiamo che era possibile gestire anche le app in 4G, cioè quindi avere una valutazione di dati mobili in 4G che viene a mancare qui. Nella scansione virus è rimasta la stessa, così come il drop zone è praticamente lo stesso, quello che viene a cambiare è la gestione della batteria. Con la nuova versione dell'Emotion UI abbiamo sempre il primo memoria del consumo intenso, cronologia a consumo intenso, con la vecchia versione era possibile anche chiudere le app a consumo intenso e avere la cronologia delle app chiuse che qui viene a mancare, poi abbiamo il Wi-Fi in sospensione, i dati mobili in sospensione e le informazioni che sono rimaste le stesse, quindi viene a mancare, si viene a perdere diciamo qualche voce. C'è sempre la modalità di risparmio energetico, la modalità di risparmio energetico ultra, è stato aggiunto con la nuova versione dell'Emotion UI e quindi con Android 8.0 la possibilità della riduzione dello schermo, passare da Full HD ad HD anche in maniera intelligente. Nel passaggio da Full HD ad HD è vero, esiste, non è come nelle vecchie versioni dove nel risparmio energetico a schermo c'è la risoluzione, ha il risparmio a bassa risoluzione, praticamente aumenta di poco la durata ma non cambia sostanzialmente la visualizzazione, mentre invece con la nuova versione dell'Emotion UI si ha in effetti la riduzione dello schermo da Full HD ad HD è, diciamo, perfettamente visibile, si ha proprio il cambio sostanziale, si notano molto di più i pixel, però questo comporta, come vediamo, un netto aumento della batteria che comporta, quindi, diciamo, una migliore gestione e quindi una maggiore durata. Inoltre, con la nuova sempre versione, è possibile gestire manualmente le app o comunque stabilire, se si devono avviare in maniera automatica, avvio secondario esegui in background, cioè noi ogni applicazione possiamo in pratica decidere se avviarla in maniera automatica con avvio secondario oppure se mantenerla anche in background, e questo è possibile su ogni singola applicazione. Ovviamente questo è legato ad Android Oreo e quindi manca nella versione precedente di Android. Inoltre, è possibile anche vedere tutte le app che hanno avuto, diciamo, l'avvio automatico. E' presente sempre poi la voce Ottimizza e la percentuale della batteria, oltre che analizzare il consumo della stessa batteria che è rimasta praticamente lo stesso. Poi, andando in impostazioni, i toggle rapidi sono rimasti praticamente gli stessi e quindi non si è avuto nessuna variazione. Infatti, andando anche qui, come vediamo, è rimasto praticamente lo stesso. Mentre per quanto riguarda le impostazioni, vediamo che c'è stato uno snellimento con qualche voce. Diciamo che le voci sono rimaste sempre le stesse, sono state solo accorpate in menu differenti, quindi è più rapido arrivare con la nuova versione del Moshu UI che presenta l'accesso a Huawei ID in alto, reti dati disattivati in alto, poi è presente in wireless e reti la gestione della modalità aereo, che invece qui troviamo staccato su ogni voce, il Wi-Fi, l'impostazione della doppia scheda che poi è rimasta la stessa precedente, la rete mobili, che qui invece ritroviamo in altro, i dati mobili sempre attivi nella nuova versione del Moshu UI sono in avanzate e praticamente poi ci sono le stesse voci. In connessione dispositivo andiamo ad analizzare il Bluetooth, che qui troviamo nella singola voce, l'NFC che ovviamente qui viene a mancare, e il Mirror Share che troviamo invece in... che troviamo qui a parte e la modalità stampa che qui è presente, diciamo in quest'altra voce, l'NFC ovviamente invece viene a mancare. Poi in App e Notifiche abbiamo la possibilità di gestire sempre le applicazioni allo stesso modo, quindi c'è sempre memoria, batteria, apri, le notifiche, l'utilizzazione, l'utilizzo dati e la memoria, in impostazioni abbiamo sempre le autorizzazioni delle app, Link App, impostazioni predefinite, accesso speciale, in accesso speciale abbiamo praticamente le stesse voci, tranne che in pratica con la nuova versione di Android 8 abbiamo il Picture-in-Picture che ovviamente viene a mancare qui, l'accesso a SMS Premium che qui manca e poi abbiamo accesso dati senza restrizioni e accesso dati di utilizzo. poi abbiamo la gestione delle notifiche che qui invece troviamo in un'altra voce che è Notifiche e Barre di Stato, troviamo le autorizzazioni, le app predefinite che troviamo qui in avanzate, l'app Gemella che troviamo qui a parte e le notifiche della percentuale di stato che anche qui troviamo a parte. In batteria abbiamo già visto, nel display invece che cosa abbiamo? Abbiamo sempre la temperatura colore che non è quindi variata, la sospensione che non è variata, la protezione occhi, come vediamo le voci sono rimaste le medesime, lo stile che è rimasto lo stesso, quindi anche qui è presente la possibilità dello standard, del drawer che è presente anche nella vecchia versione, poi sempre in display abbiamo la visualizzazione e la dimensione del testo che è rimasta praticamente la stessa che in precedente, la risoluzione dello schermo che come abbiamo visto qui viene a mancare, il salva schermo e la rotazione automatica. In audio non abbiamo più la gestione separata del volume, qui in pratica è più semplice con la nuova versione a gestire i volumi, modalità silenziosa, vibra, il non disturbare messo nell'audio, mentre qui nell'Honor è in una voce a parte, poi abbiamo le suonerie sim 1 e sim 2, vibra quando squilla, il suono della notifica, l'effetto stereo più, e in altre impostazioni audio abbiamo anche la suoneria delle sveglie, modalità silenziosa, vibra, modalità silenziosa, non disturbare, in altre impostazioni audio abbiamo i toni del tastireno numerico, il blocco a schermo, la schermata, vibra la pressione, il tono di accensione, e c'è il broadcast che è rimasta praticamente come quella, come nella versione precedente. In memoria abbiamo anche qui la stessa, le stesse voci che non sono quindi praticamente variate, con pulizia archivio e pulizia archivio, poi in sicurezza e privacy, abbiamo con la nuova versione di Android il Google Play Project, dove in pratica vengono verificate tutte quante le app da Google stesso per vedere se ci sono delle app dannose, c'è il trovo poi il mio dispositivo, gli aggiornamenti sulla sicurezza, poi id impronta, che in pratica, vediamo dov'è l'id impronta, è praticamente rimasto con la stessa gestione, il blocco schermo, id impronta, abbiamo detto che è rimasto con la gestione dell'impronta, le stesse funzioni che c'erano anche nella versione precedente con il tasto dell'impronta digitale, mentre nel blocco schermo sono rimaste anche qui le stesse voci, quindi non è variato niente. Poi ci sono i servizi di localizzazione, nello spazio privato, che non è presente nell'Honor, è presente invece nel Mate questo spazio privato, che serve ad accedere attraverso l'impronta ad uno spazio univoco e singolo, poi è possibile gestire i file in cassaforte, il blocco delle app e poi in altro troviamo le password visibili, amministrazione del dispositivo, install apps sconosciute e altre funzioni che sono presenti qui nella vecchia versione, sono presenti in impostazioni avanzate e in particolare in accessibilità eccetera. Poi in utenti e account è possibile quindi gestire gli utenti, con aggiungi utenti e aggiungi visitatore, che ovviamente manca nell'Honor 7x, e la possibilità di gestire anche il cloud, che è presente anche nell'Honor 7x, la funzione del cloud, come vediamo è presente anche qui, poi abbiamo in assistenza intelligente, abbiamo navigazione sistema, quindi la possibilità di avere la barra delle navigazioni, ho questo tasto che serve in pratica a, lo possiamo spostare, e possiamo gestire, come vedete, le varie funzionalità dello stesso, oppure possiamo gestire, come vediamo, la barra di navigazione, possiamo in pratica, in questo caso, con la nuova versione di Android, possiamo anche togliere la barra di navigazione e avere quindi il dispositivo a tutto schermo, quindi in quel caso, attraverso uno swipe verso l'alto, facciamo ricomparire la barra di navigazione, così viene fatta scomparire, in questo modo possiamo utilizzare, diciamo, il telefono a tutto schermo, quindi veramente interessante anche quest'altra funzione della navigazione sistema. Poi, che ovviamente manca nella vecchia versione, perché è una funzione che è stata introdotta con Android Oreo, poi nella Wicom una mano è rimasta la stessa, nel controllo del movimento è rimasto lo stesso, accensione e cover è rimasto la stessa, modalità guanti e modalità disattivo tocco è rimasto lo stesso, e poi c'è il comandi vocali, che sono anche gli stessi che erano presenti anche nella versione precedente, parlo del mate perché nell'Honor manca la riattivazione vocale. Poi abbiamo i servizi di Google che sono presenti qui, in sistema possiamo invece avere le info sul telefono, l'aggiornamento di sistema, lingue data, l'accessibilità che è rimasta praticamente la medesima, la modalità semplice, poi c'è il trasferimento dati, attraverso PC Suite ho il backup, backup e ripristino, che è rimasto anche tale, la reimpostazione, annulla tutta l'impostazione, l'impostazione della rete e ripristino dei dati di fabbrica, e poi il logo certificato, che non era presente precedentemente. E questa è la nuova versione di Android 8.0 confrontata con la vecchia versione, quindi c'è solamente qualche aggiunta, qualche funzione in più interessante, sicuramente oltre a picture in picture, secondo me la più interessante nel caso del mate è proprio la possibilità di far scomparire la barra delle notifiche che trovo veramente sostanziale. Con la nuova versione inoltre di Android 8.0 il mate è stato anche ringiovanito, infatti è più veloce, più rapido e anche più fluido. Inoltre troviamo tra le applicazioni anche Phone Clone, che è stata, diciamo, che consente il trasferimento dei dati dal vecchio dispositivo verso un dispositivo Huawei, e poi c'è i suggerimenti, l'app suggerimenti, che invece mancavano nella versione precedente di Android. E con questo concludiamo la differenza fra le due versioni. Grazie a tutti.